C'è una sensibilità dal punto di vista dell'acquirente milanese per questo tipo di edilizia? C'è una sensibilità, tutto ciò che è sostenibilità e soprattutto l'energia c'è una forte crescita, se 5 anni fa l'interesse era al 10% arriviamo al 60-70%, quindi il tema soprattutto per chi comprerà la casa, della classe energetica è uno dei temi fondamentali nel processo d'acquisto. La richiesta di casa, la richiesta abitativa è aumentata, ma il discorso dei mutui, cioè poi si va in banca e si riesce ad ottenere il finanziamento per poi effettivamente comprare? C'è una grande difficoltà dei muti e c'è un mercato potenziale aggiuntivo a quel 12% che è un altro 10% che vorrebbe comprare condizioni che avessero finanziamenti. I muti sono in una fase di leggero aumento, c'è un 4% che dice non li avevo, adesso comincio ad averlo, però questo è un tema ancora che deve essere fatto tantissimo perché per intercettare questa domanda, perché se non ci sono queste leve finanziarie ovviamente la domanda si spegne.